Salve a tutti, questo è il primo video di introduzione al software di EnviMet. Nello specifico utilizzeremo la versione 4.2 uscita a maggio del 2017. Prima ancora di far partire il programma avremo bisogno per evitare uno spiacevole problema di rettoscrittura del database andare a eseguire questo sempre in modalità amministratore. Per farlo clicchiamo destro sopra l'icona del programma, andiamo su proprietà e infine su compatibilità. Diamo la spunta e diamo ok. Facciamo partire il programma e diamo quindi queste credenziali. Il programma si presenta come una finestra suddivisa in schede. Nella prima scheda vediamo da sinistra verso destra EnviMet che è il motore proprio di calcolo, Spaces che è l'editor dei modelli da calcolare, il Config Wizard ovvero quello che ci permette di impostare i dati a contorno del nostro modello come ad esempio le temperature, la direzione del vento e altro. Biomet che ci servirà quasi in ultima battuta appena prima di vedere i risultati per gestire quelli che sono gli indici di comfort come ad esempio il PMV. Infine su questa scheda ancora Leonardo che è proprio quello che ci farà vedere i risultati, un visualizzatore appunto. Nella seconda scheda, quella dedicata al data in setting, sono riportati tutti i programmi per la gestione di EnviMet e sempre partendo da sinistra abbiamo il Manage Project and Workspaces che serve appunto per gestire i progetti di EnviMet, il Manage Database che serve per gestire invece caratteristiche del programma come i materiali e albero che serve per gestire gli alberi tridimensionali presenti dalla versione 4 del programma. Nella scheda System invece vediamo tutte le informazioni riguardanti la licenza. In Interactive possiamo vedere invece le icone che ci riportano essenzialmente al sito del produttore e da qui possiamo ritornare anche facilmente sia alla documentazione che al forum.